Buongiorno amici, eccomi, sono arrivato, sono pronto per la serata di questa sera nel club di Franciacorta ma siccome mi presenterò come al solito con la ricetta della serata, anzi questa volta saranno più ricette perché tratto l'argomento le stagioni sul lago e per ogni stagione c'è la sua la ricetta clou, quella dedicata ai mesi autunnali che sono i migliori in assoluto per cercare il target fish volevo portarla anche in forma fisica e allora mi sono affidato a un amico qui in zona che mi prepara, mi ha già preparato in realtà, dei campioni di queste palline da dare a tutti voi che mi onorerete della vostra presenza stasera ma la cosa bella, quello a cui faremo riferimento con questo video, è che vedremo tutte le fasi di preparazione di questa ricetta e avrete modo quindi di capire come avviene la produzione a livelli semi-industriali di una pallina così tecnica e così self-made perché faccio fare questi campioni? perché io quando porto le ricette nei club ho piacere che voi poi possiate provare a replicarle, a farle e usarle in pesca ma è difficile fare una boiless avendo solo la ricetta scritta se uno ha in mano qualche pallina di riferimento per saggiarne la consistenza, la granulometria, la fragranza è molto più semplice, come dire ho un campione da cui trarre qualche indicazione in più e da cui capire bene se il mio risultato arriva al livello desiderato ecco che quindi adesso inizieremo a vedere le varie fasi e partiremo da assemblare il mix, poi assembleremo la parte liquida poi andremo a impastare il mix e i liquidi e quindi estrusione, rullatura, cottura vedremo tutto insieme e le palline appena cotte arriveranno questa sera alla serata per farvi vedere che fragranza ha una boiless appena fatta perché se in serata ci saranno tanti di voi che non hanno mai fatto self-made si potranno rendere conto che un prodotto fresco appena cotto ha un appeal e un'attrattiva diciamo oltre le aspettative quindi adesso entreremo nelle fasi produttive e approfitto già per ringraziare l'amico Matteo di Bait Selection perché fa da sponsor a questo evento nel senso che i campioni che porterò sono gentilmente offerti da lui e per questo lo ringrazio partiamo! ecco, stiamo pesando gli ingredienti per poi andarli a miscelare gli ingredienti li trovate indicati ovviamente nella ricetta che sarà allegata alle diapositive della serata abbiamo preparato tutti gli elementi della ricetta ovviamente questa è una quantità basica che ci servirà per fare insomma i campioni freschi da portare questa sera e adesso procediamo vista la piccola quantità a rimescolare manualmente ed eccoci qui con il mix pronto passiamo ai liquidi ecco che stiamo miscelando insieme tutti gli ingredienti della parte liquida della ricetta ecco l'ingrediente clou il fegato liquido il miglior attrattivo possibile è il momento di un attrattivo a me calo in tutti i miei libri nelle mie ricette trovate questi riferimenti all'aceto che è un vecchio segreto dei pescatori di carpe con la polenta è un liquido fermentato estremamente attrattivo qui siamo allo stato dell'arte perché Matteo quando si è trovato a replicare le mie crazy krill siccome non riuscivamo ad arrivare agli esteri necessari per la parte attrattiva ha avuto la brillante idea di prepararsi da solo l'aceto fermentando i fichi del suo albero e ne è nato questo prodotto eccezionale vitamina C per stabilizzare perché queste esche sono fatte per essere stabilizzate e messe in sacchetto ovviamente uova fresche allora come faremo? adesso ne mettiamo metà di quelle che vanno nella ricetta perché poi il resto lo aggiungeremo in impastatrice oggi per esempio è una giornata quasi primaverile e quindi è meglio correggere il tiro intanto che l'impastiamo per avere l'impasto perfettamente idratato via con questo ingrediente indispensabile quando si parla di boiless nella loro accezione classica del termine si parla di palline che devono durare in acqua non solubili la solubilità è un'altra esigenza queste sono esche autunnali da grande lago non si devono sciogliere devono essere attrattive nutrienti e durare anche una notte o più notti sul rig quindi l'uovo è indispensabile e non si può sacrificare siamo giunti all'aroma nella ricetta che vi presento c'è scritto aroma fruttato a scelta qui siamo con un produttore e quindi abbiamo degli ingredienti sofisticati in questo caso andiamo ad inserire degli esteri della frutta sono ricavati soprattutto dalla frutta rossa e sono un attrattivo eccezionale per le acque pulite come quelle dove andremo a interagire cioè le acque di un grande lago nell'utilizzo invece vostro del self andrete a scegliere l'aroma fruttato che vi dà fiducia vi rivolgerete al vostro fornitore e starete alle indicazioni in termini di dosaggio che trovate indicate sul boccino selezionando un dosaggio un po' superiore al medio quindi mezza dose verso il massimo mettiamo la parte solida nella planetaria ora se si dispone di un attrezzo di questo genere non è nemmeno necessario andare a miscelare le farine come abbiamo fatto prima a mano perché basterebbe mettere i vari ingredienti appena pesati far andare la planetaria nel frattempo e vengono mescolati a sufficienza il metodo d'impasto sarà il crazy quindi andremo a versare i liquidi nei soliti impasteremo e poi regoleremo l'idratazione e la consistenza del mix aggiungendo uova QB quanto basta per la giornata ci siamo quasi dovremmo esserci adesso ovviamente Matteo controlla la consistenza manuale perché questo è il sistema si bene non si appiccica al guanto direi che ci siamo ecco nel prossimo passaggio trasferiremo l'impasto in questa macchina che è un estrusore a coclea che è quello strumento lì ovviamente a livello casalingo è molto più facile che voi abbiate delle pistole ma vabbè non cambia questo è un processo che è stato industrializzato e quindi la coclea poi spara in questa macchina che è una rollatrice ma è nulla vieta insomma che sia fatto con la tavola a mano questo mix come vedrete viene rullato benissimo ciò che va benissimo in rullatrice funziona sicuramente anche in tavola non è altrettanto vero il viceversa cioè se io ho un mix che in tavola riesco a farlo non è detto che riesca a farlo in macchina tenete sempre in considerazione questo fatto e allora pronti trasferiamo l'impasto nella tramoggia con la coclea trasferiamo l'impasto e lo inseriamo nell'impianto a coclea e lo inseriamo e lo inseriamo ecco svuotato il nostro impianto a coclea pronti per le prossime lavorazioni ecco prima di passare alle altre fasi volevo ricordarvi in ambito casalingo di pulire sempre bene con dei disinfettanti forti tipo l'alcol etilico oppure vabbè anche la varicchina tutti gli attrezzi perché la contaminazione poi vi dà delle esche più difficili da conservare quindi pulizia degli attrezzi sempre oggi questa non ve lo faremo vedere ma qua viene tutto disinfettato con detergenti industriali insomma eccole qua e siamo pronti per andare in cottura cottura ovviamente a vapore nulla vieta di bollire se andate sul blog trovate un bel post un bel articolo sulla cottura delle boili che vi presenta tutte le possibili cotture ma una pallina così tecnica con questi ingredienti così nobili cotta per ebollizione perderebbe gran parte dell'attrattività nell'acqua di cottura e quindi queste palline vanno cotte preferibilmente a vapore ci apprestiamo la cottura queste sono palline del 18 e per questo tipo di cottura a vapore saranno necessari fra i 7 e i 10 minuti e molto ovviamente dipende dal quantitativo che andremo a inserire dentro nella vaporiera e giustamente dalla produzione di vapore della vaporiera stessa occhio a non salire troppo con le temperature lasciando magari a pressione la vaporiera e quindi creando l'effetto pentola a pressione perché se andiamo sopra i 100 gradi ci potrebbero essere degli elementi instabili nel biscò che potrebbero far gonfiare quest'esca alleggerendola un po' essendoci dentro anche il krill che non è notoriamente un ingrediente troppo pesante stiamo un attimo attenti le dobbiamo usare in lago quindi non abbiamo bisogno di pesi specifici da fiume però è certamente da non sottovalutare eccoci pronti vapore in produzione si introducono i cestelli si chiude e da qui parte il timer ecco le palline cotte belle calde ancora ovviamente queste le porterò fra un'ora alla serata ma i campioni come potete immaginare sono già stati preparati un paio di giorni fa e confezionati perché ricordate che le palline per quanto stabilizzate non possono essere insacchettate appena cotte bisogna lasciarle asciugare almeno un giorno o due eccole qua pronte ci vediamo fra circa due ore al bar Eleven di Torbiato sarà una gran serata sui laghi e ci saranno anche palline per tutti voi e palline fresche da toccare usare e guardare vi aspetto